Vi auguro la buona giornata e buon inizio settimana. Il messaggio di oggi è Doni di Dio. Arcangelo Sandalfon. Noi angeli ti portiamo doni dal tuo creatore. Apri le braccia per riceverli. Il cielo è espansivo e in perenne propagazione. Uno dei modi in cui si espande è donando e inviando amore continuamente. Questo amore ti viene inviato in molte forme. Tutto ciò che devi fare è essere pronto a riceverlo. In questo esatto momento le risposte alle tue preghiere attendono che tu sia disposto ad accoglierle. Apri le braccia a questi doni. Il tuo creatore vuole che tu sia felice, sano, sicuro e desidera che tutti i tuoi bisogni siano soddisfatti. Affidami la paura di ricevere. Collabora con l'Arcangelo Sandalfon. Una delle funzioni principali è recapitare le nostre preghiere e portarci le risposte. Sandalfon sostiene che ogni preghiera viene ne ascoltata ed esaudita, anche se la risposta può arrivare in una forma diversa da quelle che ci aspettiamo. Tutte le preghiere hanno pari importanza in cielo ed esistono molti angeli per aiutare tutti coloro che vivono sulla terra. Invoca Sandalfon tutte le volte che hai bisogno di aiuto nel permetterti di ricevere. Questo è il messaggio per augurarvi una buona giornata.